Avete sentito, l'avete visto anche nel video, è uno dei paesi più poveri del mondo, dove le condizioni della vita sono molto difficili, dove tanta popolazione vive nella povertà. Avete visto che ci sono tanti bambini che erano qui, stanno in un orfanatrofio dove sono stati inseriti e questi bambini, grazie a questo centro di appoglienza, possono andare a scuola. Avete visto che il parificio è stato realizzato per l'appoggio del pubblico Firenze per sostenere questo centro e il parificio permette di vendere il pane e i ricavi servono per mantenere i bambini. E questo non è l'unico caso in Burkina, ci sono tante altre strutture che hanno bisogno di un terzo stello. Sapete che in Burkina meno di 50% dei bambini non vanno a scuola, perché le scuole non ci sono, o i genitori non hanno mezzi per poter mandarli a scuola, e anche se ci sono delle scuole solo lontano dalla città, ma voi siete capaci di camminare per fare 5 km per andare a scuola? Si! Si! Quindi da un bambini si cambia la nostra scuola e voi immagina farete 5 km a piedi per andare. Ok, bravi! Quindi ci sono tanti bambini che non hanno la possibilità di andare a scuola, quindi avete la possibilità di andare quindi studiate benissimo, così tra 4 anni andrete in Burkina e incontrerete questi bambini e potete anche scambiare delle esperienze, così proverete anche di conoscere meglio in Burkina.